Identificati e denunciati quattro degli autori dell'aggressione del 16 giugno ai danni dei giovani dell'Associazione Cinema America. La notizia arriva nel giorno in cui si è verificata una nuova aggressione a Trastevere, a Roma, vicino all'arena estiva. E subito la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato «Sono episodi vergognosi che non verranno mai tollerati in questa città». L'indagine della DIGOS è iniziata acquisendo e visionando tutte le immagini riprese nei luoghi di Trastevere, teatro dell'aggressione. I volti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza però non erano riconducibili a soggetti noti. È allora che si è iniziato a scandagliare tra tutti i personaggi conosciuti all'ambiente della DIGOS. Individuato uno degli autori dell'aggressione, si è proceduto con un'attività sul web per ricostruire la sua rete di amicizie e accertare così chi fossero gli altri soggetti presenti con lui quella notte a Trastevere. I quattro giovani sono militanti nel gruppo di destra di blocco studentesco e Casa Pound, il più anziano, classe 81, parrucchiere in zona Casalotti. Quella sera era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato, ma di fatto dalle indagini emerge che sarebbe stato il fomentatore dell'aggressione. Sarebbe stato invece un 23enne a sferrare la testata al giovane Habib David.